La settima volta di Nova Djokovic a Wimbledon. Il 35enne tennista serba ha infatti conquistato il suo settimo trofeo sull'erba londinese, il quarto consecutivo, in otto finali totali. L'unico a sconfiggerlo in finale nel 2013 fu l'idolo di casa Andy Murray. Stavolta Djokovic ha battuto in finale l'australiano Nick Kyrgios numero 40 al mondo in 4-7 con il punteggio di 4-6-6-3-6-4-7-6. Per Djokovic si tratta del ventunesimo torneo vinto nel Grande Slam ad una sola vittoria da Rafa Nadal che ne ha vinti 22. La sfida tra i due è rinviata se Nadal recupererà dall'infortunio agli USA Open in programma dal 29 agosto.